Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio per essere venuti qui oggi, ringrazio la RAI tutta per questo docufilm che reputo importantissimo perché ricordare la figura di Nilde Iotti anche proprio oggi è senza dubbio fondamentale. Bene, conosciamo tutti Nilde Iotti, la prima presidente donna della Camera dei Deputati, in carica per 13 anni, membro dell'Assemblea Costituente, questa persona che come ho detto prima in una piccola intervista al Tg3 senza dubbio è da prendere ad esempio proprio per il ruolo che ha svolto nel modo in cui l'ha svolto, con un grande senso delle istituzioni, un grande senso di vicinanza verso tutti i cittadini. Ha lavorato sulla figura della donna per equipararla a quella maschile, in un momento in cui la società era assolutamente ed esclusivamente maschilista, anche se oggi non direi che siamo usciti da una società maschilista, ma c'è molto ancora da fare, tantissimo da fare, ma in quegli anni lei si è affermata per i suoi principi e i suoi valori. E poi era una persona che veniva senza dubbio dal territorio, consigliere comunale, consigliere regionale, e quando sei a contatto con il territorio e fai un percorso di questo tipo e arrivi qui, metti a frutto tutto ciò che hai vissuto negli anni precedenti. E il valore altissimo delle istituzioni che Nilde Iotti ha rappresentato senza dubbio deve essere di ispirazione a tutti, e senza dubbio di ispirazione per me. Vi racconto solo un piccolo aneddoto, che proprio sul Banco della Presidenza, quando sono arrivato a presiedere per la prima volta, c'era un piccolo binocolo. E ho detto, ma che cos'è questo binocolo che è sul Banco della Presidenza? Ho detto, è il binocolo di Nilde Iotti, che è ancora qui, con cui guardava o le tribune più da vicino, o i deputati magari nell'ultimo pezzo di assemblea. Quindi ogni tanto lo uso, e lo uso per pensare anche Nilde Iotti come lo sava. È per me assolutamente un onore. E oggi proprio ho affermato il senso della Repubblica, della Costituzione, della democrazia, e che le istituzioni non sono mai scontate, le istituzioni repubblicane. Tutti quanti insieme dobbiamo sempre fare di più per preservarle e per costruirle. Nilde Iotti, con questo anche docufilm, è un esempio fondamentale per tutto il Paese, che oggi ricordiamo, ma non come mero ricordo, ma come anche proiezione per il futuro, per il modello e il modo di essere istituzioni. Quindi vi ringrazio e ringrazio la RAI per darci questa opportunità. Grazie, io mi associo molto volentieri alle parole del Presidente Fico. La RAI ha il dovere, come sua missione culturale, di preservare la memoria, la memoria storica e di trasmettere il ricordo di grande personalità della nostra storia politica, e non solo, anche alle giovani generazioni. Nilde Iotti a me dice molto, perché ho vissuto, benché fossi un adolescente, quando fu nominata eletta Presidente della Camera, mi dice molto, ma ad esempio a chi ha 20 o 30 anni dice poco. Allora, queste figure di solito si apprendono leggendo i libri di storia. Attraverso invece lo strumento del docufiction, abbiamo così sancito forse una bellissima, che è stata diventata una tradizione, perché il docufiction significa prendere dei documenti reali, autentici, ne vedremo diversi stasera, attraverso però una narrazione che è da film, con la tensione narrativa del film. E per cui chi guarda questo docufiction sa di vedere una cosa vera, ma senza annoiarsi, mantenendo gli spunti, la passione, le emozioni, che di solito un film sa dare. In questo caso la protagonista è la brava e bella Anna Foglietta, che è qui presente, si può alzare. E solo vedendo le immagini, le fotografie che già sono girate in questi giorni, rimaniamo colpiti dalla somiglianza, anche dalla postura che Nilde Jotti trasmetteva. Vedendola così c'è una trasformazione davveratrice. Tra l'altro ricordo che la data di oggi è significativa, perché ricorre il ventennale della scomparsa di Nilde Jotti, il 4 dicembre del 1999, tu lo hai già ricordato, è stata in carica per 13 anni, da 79 al 92. Direi che è un lunghissimo periodo, pensando anche così alla velocità della politica di oggi, ma è molto significativo che la prima donna a essere il Presidente della Camera va ricordata, perché ha rotto così un tabù, che invece oggi è abbastanza... Diciamo così, nessuno si stupisce se una donna assume un ruolo istituzionale, però è bene ricordarlo, perché senza questo esempio probabilmente non sarebbe stato così semplice. Oggi, tra l'altro, abbiamo per la prima volta una donna Presidente del Senato, la Maria Elisabetta Alberti Casellati, e anche questo è un traguardo importante per le nostre istituzioni. Il docufilm ha segnato diverse tappe importanti, io sono rimasto molto colpito l'anno scorso dai Figli del Destino, molto bella, ha consentito di parlare agli italiani nel giorno della memoria, attraverso una narrazione molto diversa, commovente, attraverso i bambini, veramente molto toccante, così come mi era piaciuto molto il docufilm fatto da Bruno Vespa sull'Italia del dopoguerra, perché anche in quel caso, nel 1948, vedendo quelle immagini, abbiamo dimenticato di cosa era l'Italia in quegli anni, di cosa siamo diventati. Ecco, io come Presidente non posso che dire che questo rientra nei nostri compiti, nel nostro dovere istituzionale, nel nostro dovere culturale, e per cui io mi auguro che la RAI anche in futuro, ma ne sono certo, saprà proporre altre testimonianze, perché attraverso il docufilm, attraverso una ricostruzione rigorosa ma appassionata della nostra storia, si possono trasmettere ai nostri giovani, e a chi più giovane non è più, i valori, le passioni politiche e civiche che hanno fatto la nostra storia, con l'auspicio che sia così diviatico a un futuro radioso per il nostro Paese. Grazie. Ringrazio il Presidente Fico per ospitarci qui, dove è il posto migliore, dove ricordare appunto Nilde Jotti. Il linguaggio della docufiction è un linguaggio particolarmente prezioso per il servizio pubblico, e particolarmente aderente a quella che è la nostra missione, proprio perché permette di riannodare i fili della memoria, e permette di utilizzare il passato come deposito per il presente, ma anche come un monito e un suggerimento rispetto al futuro. Io sono grata del fatto che ci sono anche due scolaresche, proprio perché questo film, questa docufiction è stata pensata per chi ha vissuto gli anni in cui Nilde Jotti è stata appunto un importante personaggio politico e istituzionale, ma anche per quei giovani che non hanno avuto modo di conoscere direttamente quello che lei ha compiuto. Il nostro linguaggio della docufiction si serve della capacità emotiva della ricostruzione narrativa appunto della fiction e contemporaneamente della preziosa testimonianza di quelle che sono le immagini di repertorio e delle interviste di chi è stato testimone o chi ha la competenza per parlare di un tema. E in questo modo riesce a mescolare in modo particolarmente efficace quello che è la verità e la ricostruzione di quel tempo. Abbiamo raccontato la vicenda appunto a vent'anni dalla morte e a quaranta esattamente dalla sua nomina come prima donna presidente della Camera, raccontando nel percorso della lotta nella resistenza alla partecipazione come una delle 21 donne all'Assemblea Costituente e poi quelle che sono le grandi battaglie dell'emancipazione femminile. A cominciare dalla lotta per permettere alle donne di entrare nella magistratura a quelle che sono le grandi battaglie per la legge sul divorzio, la legge dell'aborto e quella della revisione del diritto di famiglia. Il percorso di Nilde Jotti si mescola davvero con il percorso del nostro paese e le più grandi e importanti battaglie sull'emancipazione femminile sicuramente sono state portate avanti da lei. Il racconto è stato possibile realizzarlo grazie al coraggio di altre donne, di Gloria Giorgiani che è la produttrice, sicuramente la passione civile di Anna Foglietta e la sua grande bravura e poi Emanuele Imbucci che ha, come vedrete, mescolato le immagini di repertorio con quelle invece da noi girate con una grande perizia. Io ci tenevo soltanto intanto a ringraziare il Presidente Fico di ospitarci qui stasera è un onore poter proiettare questo film qui in questo posto e soprattutto di averci consentito di girare gran parte delle riprese della docu-fiction all'interno dei locali di Montecitorio è stato anche quello un grande onore da produttrice soprattutto da donna produttrice, anch'io sono molto contenta di condividere questa produzione con un'altra donna il cast è stato eccezionale ma anche tutti i tecnici che sono qui in sala ci tengo solo a dire che per me è molto importante fare un racconto delle grandi donne che hanno, come dire, attraversato la storia del nostro paese come esempio per le successive generazioni e quindi, come si diceva prima, il linguaggio della docu-fiction aiuta ad avvicinare questo tipo di messaggi che magari non passerebbero. Nilde Jotti rappresenta questo, le battaglie sul tema del femminile ma rappresenta anche una bella idea di politica una bella, come dire, possibilità di vivere l'esperienza politica soprattutto in un'ottica di condivisione perché lei spesso diceva, è una delle sue frasi più importanti che bisogna cercare nel diverso, in quello che è la pensa diversamente da noi non una contrapposizione ma soprattutto la possibilità di scovare il positivo che può darci credo che questo sia una grande lezione, molto importante soprattutto oggi e spero intanto che questo film possa portare quelle emozioni di cui parlavamo e vi auguro una buona visione grazie grazie grazie